Qualcuno di voi avrà già riconosciuto le note di questa canzone benvenuti a un talk di ultra pop di ARP a condurre con me questo talk Riccardo Corpò e con noi su questo palco ci saranno il regista Ivan Silvestrini il regista di Marefuori Don Salvatore Raiz Mi sembra siano finiti no Riccardo? Mi sembra siano finiti? O forse potremmo avere Giacomo Giorgio Ciro Benvenuti Benvenuti, grazie per essere qui con noi Accomodatevi L'ARP è un festival dedicato al fumetto e noi ci piace però unire il fumetto con contaminazioni che in qualche modo sono collegate insomma intanto grazie per essere qui con noi oggi Riccardo Allora, io apro su un dato che a voi forse non so quanto vi colpisce ma è molto interessante è un dato numerico del successo di questa serie su Rayplay la piattaforma streaming che ha lanciato la serie dal 18-9-2020 che rilascia il primo episodio della prima stagione su Rayplay all'1-5-2023 ha fatto un totale di 214 milioni di visualizzazioni con un numero incredibile sono 89 milioni di tempo speso in ore cioè è stata vista per 89 milioni di ore la serie diciamo praticamente ha strabilito ha rotto qualunque record diciamo della Ray sulle piattaforme i primi sei episodi hanno fatto 8 milioni e rotti di streaming in 24 ore cioè dei numeri pazzeschi poi c'ho altri numeri ma insomma poi diciamo interessano tanto quanto ma per far capire il fenomeno io partirei proprio subito su questa domanda perché mi è venuta a me questa idea di fatto voi state soprattutto su Rayplay che è una nuova piattaforma state facendo la storia della Rai cioè siete la prima serie streaming che ha spaccato tutto su Rayplay ormai siete nella storia della Rai oltre il successo della serie ma questo fatto che avete aperto le porte con Rayplay a un pubblico nuovo, giovanile tutto il resto vi ha fissato per sempre nella storia della Rai che comunque è il più grande produttore di contenuti di intrattenimento, spettacolo che effetto vi fa? no no, di qualcosa tu io sono il più anziano sicuramente quindi mi ha consegnato il microfono è impressionante sì, è impressionante effettivamente è una cosa che boh cioè quando fra 50 anni uno studierà la storia della Rai Mare fuori la prima serie che ha fatto tutto questo successo è stata Mare fuori io potrò dire ah io c'ero esatto e che dire no no, so che no, si avverte questa cosa si avverte io ho provato l'altro giorno ero a Napoli così ero a un festival insomma che voi conoscete sicuramente al Comic Con certo salutiamo i nostri fratelli del Comic Con e andando via di là abbiamo avuto un po' di problemi con i pick up di auto così ho detto ma guardate sapete che c'è io sono nato e cresciuto a Napoli io adesso prendo la metropolitana lui c'era abbiamo fatto un quarto d'ora di selfie e poi sono arrivato alla stazione però vabbè così e questo dà un po' l'idea di quello che è è io immagino lui non so se esce di casa più ciao a tutti buonasera eh sì c'è tantissima gente insomma è difficile anche fare la spesa tra un po' è pubblico quello che quello che mangiamo lui dice signora un etto di tacchino ha chiesto un etto di tacchino vabbè prendi nota no quello che dicevi tu è vero non so se abbiamo fatto la storia forse è un po' nel senso a parte il successo qualitativo il tempo ci dirà il record ebbè no però questo record assoluto cioè l'apertura direi per il grande pubblico questo è un dato è come la prima trasmissione alla radio cioè questo è un dato storico non può arrivarne una prima dopo diciamo questa è la prima in assoluto basta mi spiace ma sei nella storia sono altre le cose su cui essere negazionisti abbiamo fatto la storia prendiamocelo va bene allora diciamo quindi grazie a tutti voi insomma per aver speso 89 milioni di ore di tempo no che insomma in qualche modo il tempo è la cosa più preziosa allora secondo me 80 milioni l'ha fatta mia figlia con le amiche probabilmente però comunque il complessivo sono 89 milioni insomma che non è veramente una cifra pazzesca poi noi siamo abituati a volte dei contenuti streaming vai a vedere un minuto due minuti cioè ci sono produzioni di ore e ore e vai a vedere il monte complessivo hanno visto un decimo di tutto perché la gente è abituata a iniziare a vedere poi sullo streaming se ne va invece qui viene vista e rivista Ivan tu ti vorrei chiedere adesso te lo aspettavi però la verità è che io un po' già lo so nel senso che con Ivan ci conosciamo tanti anni e Ivan ha lavorato a tanti progetti diversi quando ha preso in mano Marefuori lui mi disse una cosa un giorno al telefono sto iniziando questa serie gli ho detto e io gli ho fatto e com'è e lui mi fa frate mi sa che se la vedranno tutti tu dicessi questa cosa al telefono quindi forse un pochino mentre voi lavoravate avevate la sensazione che stavate facendo qualcosa che sarebbe stato apprezzato da così tanta gente ma io io devo dire sì nel senso io il fatto è questo io ho preso in mano questa serie a metà della sua seconda stagione e ho fatto poi tutta la terza e mi accingo a fare la quarta ma mentre mentre io giravo già la seconda stagione percepivo che c'era un grande interesse mentre giravo la terza stagione le piazze erano già in vase la marina dove giriamo era circondata tutti i giorni da decine a volte centinaia di ragazzi che volevano incontrare i loro beniamini quindi era per la prima volta io mi sono trovato perché noi spesso come registi o insomma narratori abbiamo sempre il problema intercetteremo mai un pubblico con le nostre storie che è quello che tutti noi ci soffriamo in attesa di uscire con il nostro nuovo lavoro allora mentre giravamo la terza stagione io non solo percepivo che il pubblico che aspettava c'era era lì aspettava solo di ricevere queste storie quindi la nostra responsabilità era dar loro delle storie all'altezza delle loro aspettative però allo stesso tempo io dal ruolo privilegiato che avevo ero il primo spettatore della terza stagione di quello che sarebbe successo io la vedevo a cadere davanti ai miei occhi e quindi io avevo l'impressione che quello che stavano facendo questi questo cast meraviglioso soprattutto oltre a tutti i reparti era qualcosa di straordinario quest'anno quindi siccome le singole scene erano tutte una più interessante dell'altra io pensavo quando le metteremo insieme e le daremo a un pubblico che già sta aspettando questa serie qualcosa succederà ovviamente non mi potevo aspettare quanto sarebbe stato ed è ovviamente commovente vedere che allo stadio cantano la canzone quando il Napoli vince lo scudetto non posso che essere commosso di questo senti grazie grazie Mauro quando ha pensato al talk l'ha raccontato mare fuori quasi come un fumetto come un fumettone partendo anche da un'esperienza sempre di regista ma di regista di cinecomics se vogliamo monolith in qualche maniera deriva da un fumetto insomma quindi un'esperienza però io ho ragionato su questo fatto quanto in realtà è vero che il fumetto popolare ha una radice a sua volta della grande narrazione ma quanto inconsciamente mare fuori alla fine in maniera mimetizzata ma sia un grande anche racconto di eroi supereroi e personaggi quasi in costume o comunque con una propria identità visiva immediatamente io portavo due clip una con Ciro e una con Don Salvatore vedrei la prima con Ciro e poi appunto chiederei alcune cose vediamo un attimo brevemente un minutino della prima clip allora una cosa che ho notato io non so se mi può rispondere Giacomo il regista ogni personaggio chiedo in primis ha innanzitutto una specie di vestito da eroe Ciro ha o nero o bianco con toni di oro è sempre così non ha altri vestiti diciamo alla fine si identifica con questo bianco o nero molto elegante alla fine è un'eleganza e ha uno sguardo questo penso proprio glielo posso chiedere a lui alla fine ha un look visivo cioè una grafica visiva guarda sempre oltre adesso qui lui sta a parlare con la sorella ma quando sente guarda oltre è come se fosse sempre pronto a scattare in avanti sia mentalmente che fisicamente perché guarda sempre oltre l'orizzonte ha sempre questo sguardo come se ha un pensiero più avanti e anche fisicamente sempre protesi in avanti e Ciro è sempre così cioè quando tu vedi Ciro lo vedi sempre in questa maniera e sai subito che è Ciro poi più guarda in alto più sa che sta per succedere qualche cosa ecco da dove nasce questa identificazione ogni personaggio ti ringrazio di aver notato queste cose che insomma sono frutto di un lavoro cioè nel senso sicuramente soprattutto io credo il reparto cattivi quindi i ricci sono molto caratterizzati sia dai costumi di scena sia dall'atteggiamento dall'interpretazione nel caso di Ciro quello che dicevi tu ho preso una scelta all'epoca quando ho interpretato per la prima volta Ciro cioè di non fare il classico cattivo con un atteggiamento spocchioso altezzoso che ti guarda un po' dall'alto verso il basso come magari è più logico se tu incontri un ragazzo di strada che capeggia il primo atteggiamento che ti viene è questo e invece l'ho immaginato appunto come dicevi tu molto più curvo molto più proteso in avanti come se fosse una pantera e questa cosa dello sguardo di guardare sempre avanti l'ho rubata completamente a Nisida quando sono andato a Nisida che c'era questo ragazzo che era a tutti gli effetti il Ciro della situazione cioè era il capo e la cosa che mi colpì in che occasione sei andato a Nisida? Siamo andati durante la prima stagione a metà riprese quindi c'era anche una cosa come per dire chissà che cacchio stiamo sbagliando tutto oppure se la direzione è giusta e invece la direzione era giusta e tra tutte le cose che mi avevano colpito di questo ragazzo tipo che che ne so era nella cella c'era la partita del Napoli e c'era una sedia vuota davanti della televisione che era la sua tutti seduti capito pure il Napoli fa gol boato da stadio lui fermo zitto così cioè tanti atteggiamenti mi avevano colpito però il principale è che lui non guardava mai negli occhi il suo interlocutore cioè lui era tipo fermo così e guardava avanti poi arrivava qualcuno a dirgli qualcosa e lui continuava a guardare avanti cioè abbassava lo sguardo nel frattempo gli rispondeva e continuava a parlare avanti non faceva mai questo a meno che non era per un motivo che ne so intimidatorio o di minaccia quindi spostava lo sguardo solo nel momento in cui succedeva qualcosa quindi tutte queste cose mischiate anche a un po' di per esempio mi ricordo Ivan amera molto avevo visto 200 volte penso Gains of New York di Scorsese e trovavo il personaggio di Billy il Macellaio interpretato da Daniel D. Lewis vabbè facciamo perdere comunque uno dei più cattivi del mondo cioè trovavo il personaggio di una cattiveria inaudita per cui un po' immaginazione un po' rubare dai grandi un po' applicare la verità è venuto fuori questa cosa qui quindi ti ringrazio di aver notato questi senti il look è un merito tuo è un merito del reggio o comunque degli sceneggiatori questo look di eleganza di fatto in qualche maniera colori neutro bianco nero e poi l'oro no no il look è sempre merito ovviamente del reparto costumi della costumista in accordo con il regista e qualche volta anche con l'attore però diciamo dalla prima stagione c'era l'idea di differenziare Ciro dagli altri quindi se gli altri erano colorati Ciro doveva essere nero se gli altri erano neri Ciro doveva essere bianco elegante no nel senso rispetto a quei colori tutti cioè rispetto infatti che tu reputi elegante uno con una cosa d'oro addosso perché tu non hai visto ma tu devi vedere gli altri in una serie come si vestono insomma quindi è quello peraltro permettetemi l'atteggiamento era un atteggiamento elegante questo sì però ecco no c'ha dei colori elegante nel senso non è vestito con colori sgargianti cose pacchiane non ha bisogno forse di farsi notare in maniera eccessiva c'ha questa eleganza poi napoletana una cosa che peraltro non so se l'avete notata a me una cosa mi ha fatto impazzire appena l'ho notata perché questa cosa dei vestiti dei personaggi è proprio una divisa il comandante in tre serie televisive adesso non lo so non si è mai cambiato d'abito è sempre vestito di blu sempre è Beppe è sempre verde solo vestiti verdi a un certo punto un po' marroncini e c'è questo dualismo che fa molto Batman Green Arrow cioè scuro forte e scuro Beppe che è più solare più così la natura è sempre verde non si cambiano mai di abito ho detto che stavano in un festival del fumetto e notavano queste cose strane comunque no è vero è verissimo nel senso che c'è uno studio cromatico sui personaggi non direi che il comandante non si cambia mai perché però è vero è vero ha solo abiti blu si cambia cambia molto poco la palette dei suoi colori ed è sempre è stato notato da qualcuno anche prima che lui e la direttrice avevano sempre dei vestiti su delle tonalità marine perché in fondo forse questo insomma mi precedeva però immagino che fosse un ragionamento dovuto al valore simbolico che è al mare in questa serie mentre i personaggi di altro tipo usano tinte più aggressive o come lui più invece diciamo minimali magari non certo minimali per quanto minimale può essere il look la moda napoletana però però è così Beppe usa una una palette tra il marrone e il verde Lino usa una palette di scala di grigi simile a Beppe per certi versi ma su scala di grigi quindi ci sono state dei giorni che arrivava Lino vestito di verde lo guardavo e subito dicevo no via hai costumi tornare e si doveva cambiare perché poi l'hanno capito non è più successo però mi ricordo esattamente questo momento in cui qualcuno usciva dalla palette e questo sicuramente rende i personaggi più iconografici e più immediatamente riconoscibili in questo secondo me il mio passato sia passato con Mauro quando lavoravamo alle Wings o poi dopo quando ho passato il tempo con Lorenzo Ceccotti che mi ha insegnato molto sui colori la purezza di certi ragionamenti come bisogna essere attenti me li sono portati dentro anche nel supervisionare lo straordinario lavoro del reparto costumi infatti Ivan quando ne parlavamo per costruire questo talk si parlava di fumetti da sempre noi parliamo del fatto che Dylan Dog si veste sempre nello stesso modo è una caratteristica tipica dei fumetti e tu lì mi dicesti un giorno ma sai che io siccome Ivan è un lettore di fumetti ha lavorato nei cartoni animati ha diretto il primo cinecomics della Bonelli che era Monolith lui disse ma infatti io quando lavoro a Marefori io gli do appunto l'epica delle grandi storie a fumetti perché comunque i fumetti sono molto viscerali e tu mi dicesti proprio sulla Famiglia Ricci c'era questa questa attenzione particolare sì sì beh non è un caso che la Famiglia Ricci è quella che poi è diventata la più iconografica di Marefori a partire diciamo dal padre il figlio e insomma lo spirito santo che è la figlia che che è la nuova icona di Marefori cioè è innegabile che da quando è arrivata Rosa Ricci e cito sempre lei perché lei diciamo l'ho scelta io quindi l'ho l'ho cresciuta io proprio Pippo Bato esce da questo corpo esatto esatto e quindi lei è proprio io già io mi ritrovavo spesso a usare questa parola io c'è una scena quando lei viene arrestata in un flashback di questa terza stagione che arrivano la polizia e lei alza le mani e io mi ricordo stavo al monitor e appena dissi stop e quindi potevo urlare urlai icona perché cazzo era diventata un'icona davanti ai miei occhi io lo sapevo la vedevo e quindi era e poi da lì fino alla scena finale che forse avete visto ma insomma dove se la vedete lei è quasi un sembra quasi un manga per come si presenta lì poi lei non so perché ma lei infatti quando si parlava di scegliere uno pseudonimo insomma un esatto il primo nome che hanno proposto è stato acinese però prima di Tarantella però questa cinese avrebbe poi secondo me creato troppe domande circa la maternità di questa di questa di questa per gli occhi per gli occhi comunque abbastanza orientaleggiante io vedrei l'altro spezzone con sul padre diciamo della famiglia della famiglia un minuto e rotti senti io volevo chiederti una cosa no no ho l'archetto che da una parte il grande attore chiaramente ha una grande dote recitativa ma spesso il corpo lo aiuta in qualche maniera a me mi ha fatto impressione ma vedo che anche qui c'è tu c'è queste vene sulla testa io mi sono spaventato quando c'è tu passi passi in macchina stai zitto ti si vede la testa io da spettatore già ho paura perché c'è queste vene sulla testa ecco anche qui questa fisicità perché qui è un ruolo perfetto nella vita come ti hanno come ti hanno portato ti ha aiutato ti ha aiutato il ruolo attoriale come hai una fisicità fortissima cioè prima ancora di arrivare alla recitazione già c'è il corpo che recita per te ma io ho fatto insomma ogni tanto scusami per la domanda non voglio non voglio non voglio no grazie è una domanda giusta il Soma insomma fa tanto chiaramente uno trovandosene uno allora o lo continuo a costruirlo io l'ho già più o meno così non ho fatto altro che andare avanti posso solo peggiorare adesso quindi lo farò con una con una insomma con devozione con cognizione di causa mi sono spesso interrogato siccome io faccio il musicista insomma canto ho cantato praticamente tutta tutta la vita sono stato sul palco mi sono spesso interrogato su su perché cioè io faccio l'attore faccio il musicista chi sono io veramente perché mi piace così tanto e poi mi sono dato una risposta comunque lo stesso Raiz è un personaggio cioè è una maschera che io ho costruito perché evidentemente ne ho bisogno e questo probabilmente è l'insita necessitano dell'attore che forse ha sempre albergato in me di mettersi una maschera di mettersi nei panni di qualcun altro che è la cosa che fondamentalmente noi facciamo cioè in continuazione beh qua io sto nei panni molto conosciuti perché lui chiaramente come Giacomo ha spiegato dal contatto avuto con i ragazzi di Nisida io ho conosciuto diversi diversi salvatori ricci che insomma non sempre hanno fatto una bella fine perché perché in tanti anni di carriera a Napoli dove dove il confine tra il legale e l'illegale come ho scritto in una canzone di tanti anni fa o buone o malamente insomma è molto 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 labile quindi tu per strada puoi puoi conoscere tanta gente quindi il fatto anche di essere cresciuto in una famiglia popolare in un quartiere popolare ti fa vedere ti fa vedere l'altro te che avresti potuto essere insomma e che non sei diventato grazie a Dio meno malo e quindi sta tutto lì come dire io sì sì sono fatto così ho sta testa così diciamo che non molto spesso mi è capitato di litigare ecco senti mi è molto salvato e invece Don Salvatore non è il protagonista non è il protagonista perché più che altro sono i ragazzi non per altro però la sua presenza è fortissima io parlo da spettatore non so se posso parlare per tutti tant'è vero che nella prima scena in cui tu non c'è ma Rosa Ricci dice mi ricordi papà e subito tu fisicamente mentalmente appari nella scena non sono spoiler ormai credo della morte di Ciro che lui dice dita a mio padre che non è è subito cioè non è una figura così subito uno ti rivede qual è la potenza anche che gli hai dato tu a questo personaggio che pur essendo laterale è sempre presente lui è presente nella cattivissima educazione che dà ai figli cioè vabbè poi cattivissima è il suo punto di vista Salvatore fa l'imprenditore del crimine e quindi chiaramente il miglior modo per educare i suoi figli insomma l'ha messo l'ha messo in pratica quindi ha creato dei criminali ha creato magari la figlia non so se avesse tutta questa intenzione ma si ritrova anche lei con questo DNA evidentemente potente e se la ritrova così sì lui alleggia anche nella prima stagione dove è praticamente assente appare solo in una scena però sta sempre lì perché Ciro comunque è soggiocato dalla figura di questo padre e lo vuole chiaramente lo vuole emulare nel suo modo di essere nel modo di comandare e lo fa infatti in carcere secondo me lui ha reso ma non lo dico perché ci vogliamo bene lo dico con verità ha reso questo personaggio iconico anche perché ha portato della roba sua dentro Don Salvatore cioè anche in questa scena quando all'ultima battuta dice non si disprezza famiglie non era scritta ovviamente non era scritta è una cosa che lui nel qui ed ora parlando con Mimmo dice bene un boss di quella portata il primo valore qual è? la famiglia che è quello sullo quale è basato poi tutta la storia dei ricci Ciro con il padre Rosa con il fratello poi con il padre e quindi tutta questa roba qua va oltre la scrittura quindi è anche per questo che Don Salvatore è così iconico tra l'altro lui ha scritto una canzone bellissima Portamoluntano si chiamava vero? prima di Marefuori che io ascolto sempre ad Airola l'avevi scritto ho fatto un progetto all'IPM di Airola con un rapper napoletano che si chiama Luca Riello e abbiamo scritto una canzone siamo andati un po' oltre cioè abbiamo usato un gruppo di studio selezionato poi dalla direzione dei ragazzi volentieri che volevano collaborare a questo laboratorio volevano lavorare in questo laboratorio loro hanno scritto tantissimo li abbiamo spronati a scrivere tantissimo noi poi abbiamo fatto una sorta di cut and paste tutte le cose che ci sembravano insomma più notevoli abbiamo poi creato una canzone con le loro parole e vabbè un pezzo proprio prodotto fino alla fine in qualche modo siamo riusciti anche io non lo so però come siamo riusciti anche a fargli firmare il pezzo perché forse due o tre di loro si sono iscritti alla CIA è possibile farlo anche da detenuti perché per fortuna se uno scrive un libro in carcere poi lo devi poter depositare a tutti gli effetti e quindi loro sono anche i diritti maturati da questa canzone non so saranno veramente pochi comunque è rimasto nell'ambito dell'underground Giacomo se lo sente perché si sente la musica insomma non è uno così e quindi e quindi vabbè è stata una bellissima esperienza io ho conosciuto Luca Ariello l'altro ieri e devo dire che l'icona Raiz vive in lui e chiaramente lui sta cercando di diventare te cioè io l'ho visto da lontano ho fatto ah c'è no non ero è Luca Ariello ok senti e le due canzoni o comunque domani che abbiamo ascoltato un attimo e TikTok che di fatto si sono fuse con la serie nascono prima nascono dopo cioè sono non nascono dopo la lettura della della sceneggiatura ok quindi sono proprio TikTok è proprio il momento in cui è Ciro che parla cioè tutto è lui che parla in prima persona parla della della del rapporto che ha pure col padre nella seconda strofa nella prima strofa è quello che il padre lo manda a fare cioè gli fa uccidere un suo coetaneo tra l'altro uno col quale lui ha un rapporto è un suo amico quindi lui deve imparare a comandare subito questo ha tradito ha sbagliato non importa il rapporto che tu hai con lui lo devi comunque lo devi eliminare e la strofa insomma che là dove ho cercato di medesimarmi insomma in questa cosa è quando mi sono immaginato Ciro che torna a casa e la prima cosa che fa si fa una doccia perché questo però l'ho sentito è una cosa che ho sentito dire da persone che avevano commesso reati di sangue che la prima cosa che facevano a casa è che quando arrivavano a casa si facevano questa doccia perché probabilmente il loro essere umano proprio cercava di ripulirsi dall'orrore che avevano combinato però non ci riuscivano e quindi dice la frase dice nemmeno il profumo di queste lenzuole che si mette in un letto pulito cancella il fumo della pistola rimane nel naso questo odore che è già andato via dai sensi ma rimane nella memoria dei sensi del cervello che non riesce a cancellare questa cosa però Ciro chiaramente lo ritiene un step necessario assaggiare il sangue per poi capire alla fine diventa una cosa da fare che può fare e segna il segno del comando insomma e invece domani è un pezzo di speranza proprio sono le ultime 24 ore di un giovane carcerato uno che dice tra 24 ore si aprono i cancelli è lì che c'è un po' un monito alla società che dovrebbe approfittare di questo momento in cui lui è pentito che lui dice questo è l'ultimo colloquio con il mio avvocato questa è l'ultima volta che parlo di reati io voglio uscire in realtà lui sta in pericolo perché appena esce dal carcere il crimine è lì perché lui ha già fatto certe cose appena avrà necessità gli sembrerà la prima cosa alla cui poter ricorrere quando avrà necessità bisogno di soldi ecco è là che la società dovrebbe arrivare in questo gap che non so quanto 24, 48 ore una settimana due settimane in cui lui è convinto di non volerlo fare e allora gli si dovrebbe dare un'alternativa spesso questa alternativa non arriva non arriva plof ok allora prima di dare al pubblico la possibilità di fare qualche domanda quindi preparatevi ti volevo chiedere tu prima hai parlato dei punti di riferimento per interpretare Ciro però io ci vedo anche un po' non è uscito come argomento però tu sei anche figlio di tuo padre in quella storia quindi hai ripreso qualcosa anche della sua attitudine per portarla in scena oppure guardata altrove ma diciamo che tutto il personaggio di Ciro è su di lui che è una cosa che era nata diciamo facendolo perché perché da sceneggiatura c'è questo padre che compare in un flashback fine quindi in una classica diciamo serie sarebbe una scena di flashback che serve al racconto e invece era molto più interessante cosa che abbiamo fatto ed è stata vincente a quanto pare questa cosa di basare tutta la sua cattiveria e tutta la sua prigionia sulla figura di questo padre e anche quando dice la canzone che è un capolavoro assoluto per quanto mi riguarda che è anche una canzone di denuncia tutte e due quando dice il profumo di queste lenzuola a un certo punto io arrivo sul set e durante la prima stagione e c'erano delle lenzuola di seta per cui il regista dice ma che cazzo gli avete messo a questo alla scenografia le lenzuola di seta non esistono in carcere e invece lì dice ma no aspetta lasciamo le lenzuola di seta perché sono le lenzuola che il padre gli ha regalato e poi allora mettiamo anche una fotografia sul comodino del padre che guarda suo figlio cioè tutte queste cose hanno fatto sì hanno tirato fuori il personaggio queste cose quello che diceva lui prima anche con i costumi cioè sono tutte cose che più riesci a caratterizzare laddove chiaramente è necessario farlo e più tira fuori il personaggio quindi più vai oltre no Ciro è cattivo ok ma perché è cattivo il rapporto con il padre eccetera eccetera e più riesci a tirare fuori delle cose ovviamente frutto di una cioè anche i costumi come diceva Ivan prima sono frutto di una meticolosa scelta cioè il regista guarda la palette dei colori per cui se gira in un ambiente che ne so rosso non ci mette un colore che non va bene con il rosso cioè è tutta una cosa non è che si fa a caso sì quindi penso sia per me è stato fondamentale il lavoro con lui oltre il piacere di aver conosciuto un artista così grande grazie allora c'è qualche domanda c'è qualcuna che ha il coraggio vediamo osservate che potete farlo adesso adesso mai più adesso vabbè ti auguro di avere tante occasioni vai allora Giacomo grazie grazie eccole allora tu hai detto che prima un ragazzo di buonazionale all'inizida ti ha cercato cioè ti ha dato ispirazione sì ok però c'è tipo tu hai mai avuto il piacere di incontrarlo a questo ragazzo o no? guarda purtroppo no purtroppo no questo ragazzo non l'ho mai più incontrato perché ovviamente è un detenuto del penitenziario minorile non ci sono mai riuscito più a tornare però sicuramente ho portato con me mentre facevo la serie la memoria di quella giornata e quindi come loro tu potrei raccontarvi tante cose di quella giornata ci sono stati tantissimi ragazzi c'è stato un ragazzo infatti Ivan è stato magistrale in quella scena della seconda stagione con Antonio Refice no? quando Totò si attacca alle sbarre e impazzisce allora vi giuro su Dio che io appena sono entrato a Nisida la prima cosa che ho visto era un ragazzo quasi anoressico quindi in uno stato fisico anche problematico attaccato alle sbarre della cella di isolamento che è sulla sinistra che urlava e cantava cioè quindi ci sono tante cose di quella giornata quello che spero è di essere riuscito attraverso la serie ad ispirare qualcuno ecco come gesto di scambio per tutti cosa ne pensate della gente che vi prova ad imitare? a imitare ma cioè in che senso cioè imitare a emulare i vostri personaggi a imitare nella vita credo non gli attori questa è una vecchia querella no il fatto cioè le serie come mare fuori sono diseducative sono educative cioè sono beh allora io ti rispondo sempre così se una serie potesse essere educativa o diseducativa allora visto il seguito che ha avuto Don Matteo per esempio in Italia cioè ci sarebbe dovuto essere tipo un innalzamento del numero dei sacerdoti non credo non credo che possiamo influenzare anche perché allora voglio stavamo girando proprio questa scena qui che è l'ultima che abbiamo visto qui io e Giacomo siamo in macchina siamo in realtà in una piazza dietro al corso Caribaldi a Napoli tra l'altro in una situazione veramente incredibile dal punto di vista del pubblico che era presente cioè immaginatevi che comunque tra un take e l'altro la gente c'entrava in macchina così per farsi i selfie così a un certo punto un aiuto ha detto ma voi amate questa serie un coro enorme che fa sì e allora vado a sta sit perché bisogna lavorare questa è una cosa però ho detto questo perché durante la mia permanenza sul set quindi tra una scena e l'altra io abiti di scena ero Salvatore con le sue catene col suo modo no così e c'erano dei ragazzi in piazza che erano i veri Salvatore e comunque mi guardavano e ridevano e io ho fatto uno scambio di battute con lui con uno di loro sai perché poi ecco qua il confine non c'è in realtà a Napoli è tutto molto è molto fluido allora fa uno come stai sei molto bene vestito cioè ti piace ho detto però senti io vi faccio stare qua cioè vi do il permesso di stare qua e quelli erano quelli che invece avrebbero dovuto dare il permesso a me di stare lì no io vi do il permesso di stare qua però vado a sta sit quindi là c'è stato uno scherzo chiaramente tu dal punto di vista no della quando sei tra virgolette star ti puoi permettere di scherzare quasi su tutto con la gente di strada perché comunque loro lo accettano perché tu sei comunque un personaggio pubblico quindi va bene così voglio dire questo perché cioè Napoli Napoli è già piena di persone così non penso che Salvatore o Ciro possano influenzare a tal punto uno che è già su questa strada ci trova come dire light ovviamente siamo un'allusione a quella cosa lì perché la realtà è ben diversa uno che insomma vuole fare il criminale ma sì guarda io lo posso dire da giornalista non è certo c'è la criminalità in alcuni ambienti è dovuta più alla mancanza dello Stato che non riesce a rispondere a alcune richieste non è certo mare fuori anche perché non parte da qua non è che è un fenomeno del 2020 o qualcosa del genere certo ci sono alcuni atteggiamenti ma quelli forse sono più educativi del complesso secondo me mi permetto di rispondere no perché chiaramente non è un fenomeno tant'è vero che mare fuori si ispira a fatti precedentemente insomma è la realtà che ha ispirato con le fuori non mare fuori che ispirato basta fare un lavoro noi abbiamo detto tanto tantissimo e facciamo mettiamo in scena personaggi che sono insomma che hanno un bel criminal record insomma tutto il resto ma la realtà io quando ho lavorato ho fatto qualche laboratorio nell'IPM o a Irola oppure a Nisida e quando qualche ragazzo perché noi per privacy non possiamo sapere noi i reati non possiamo conoscere i reati però in genere i direttori dicono se loro vi vogliono raccontare qualcosa e quando insomma si sono aperte diciamo i confessionali adagammare fuori voglio quindi la realtà è ben direttiva qual è stata la scena più difficile da fare e perché la scena più difficile da fare è stata la scena della morte di Ciro perché non sono mai morto e quindi non sapevo come si moriva scusate io devo dire una cosa velocissimo però un ragionamento io ho rivisto un po' la serie anche per ma vi lancio questa cosa perché non so se il regista stesso in realtà la morte di Ciro secondo me l'ha provocata il comandante io non vorrei dire ma perché la prima cosa che viene detta quando c'è un ferito a terra è non muovere il corpo e chiamare l'ambulanza io ieri ho rivisto la scena il comandante appena arriva alza Ciro lo sposta lo dondola quello probabilmente si poteva pure salvare secondo me Ciro aveva un'emografia interna che si era fermata ma il comandante dondolandolo continuamente l'ha provocato l'ha provocato ha smosso tutti gli organi interni quindi quando rivedete Marei Fuori se lo vedete vedete il vero colpevole che è il comandante insomma e quindi anche Ciro tu quando tornerai perché secondo me tornerà amm non lo dico non lo sai ricordati che il vero chi è chitta ucciso è stato è stato il comandante che si è togata Riccardo se domani esce la notizia da qualche parte rivelazione Ciro è stato ucciso dal comandante noi faremo tutti il tuo nome sappi basta guardare basta guardare la scena insomma invece la scena per me è più difficile difficile era quando quando Vanda Di Salvo chiede la testa di Edoardo Conte perché cioè ti sta chiedendo al padre di vendere il figlio sebbene è un figlio adottivo è un figlio è come un figlio è questa cosa Salvatore non è che la digerisce tipo tipo così dice vabbè sì faccio quello che va fatto comunque c'è tutto un rapporto lui decide alla fine di fare quello che gli sembra meglio però però comunque c'era tutto da mettere da fare in un secondo dalla sua faccia doveva uscire questa cosa doveva perdere anche un po' la maschera di estrema sicurezza che lui più o meno ha sempre e mostrare un interno che è molto molto profondo e pieno di chissà quanto schifo insomma però insomma era difficile ma l'hai dovuta rifare o ti è venuta comunque non lo so chiediamo io ricordo esattamente il momento di questa cosa perché io avevo detto all'operatore dopo che lei gli chiede questa cosa tu stringi su di lui che è sicuro gli si gonfiano le vene e infatti e infatti in quel momento c'è lui che proprio lo vedi pulsare e questo momento è estremamente ben descritto proprio è lì davanti ai nostri occhi di cui parla no credo l'abbiamo fatto due ciacca per quella cosa massimo tre per problemi tecnici ma insomma è stato andava bene pure la prima insomma e Ivan per te la più difficile? vabbè come spesso mi è capitato di dire la scena più difficile forse di tutta la mia vita è stata il finale del sesto episodio dove succede un casino voi sapete perché sul terrazzo e non solo diciamo lì c'era una serie di difficoltà impressionanti e in più una corsa contro il tempo corsa contro il tempo per mille motivi intanto perché quando tu hai un bambino molto piccolo non puoi tenerlo per dieci ore sul set hanno un limite di tipo tre ore e in più lì eravamo ad agosto sotto il sole in più il sole non lo puoi tenere fermo il sole fa un arco durante il giorno e tu per mettergi a una scena ci metti tanto tempo quindi devi anche io uso il sole come ovviamente chiunque in esterno come fonte di luce primaria quindi io noi giravamo sempre mentre il sole si muoveva tutto contro luce quindi cominciavamo da le persone che arrivavano in soccorso e ci siamo girati tutta quella parte lì poi il sole piano piano è arrivato a metà e quindi giravamo le cose di profilo e poi il sole si è andato di là e quindi giravamo i campi su viola e poi ovviamente non potevamo veramente mettere viola in certi momenti con una bambina vera su un cornicione vero che risolverebbe molto i problemi diciamo diciamo sento le bambine lamentarsi e quindi abbiamo dovuto creare siccome io detesto il green screen non mi fido del green screen finiscono sempre i soldi prima e vengono cagate allora dobbiamo farlo assolutamente lì sul terrazzo quindi tutto è stato fatto sul terrazzo però abbiamo dovuto ricostruire 5 metri di cornicione spostati un po' più dentro il terrazzo con dei materassi sotto alto comunque 2 metri ma insomma più gestibile dove girare le inquadure più delicate e poi compositare il tutto nel montaggio funziona bene non ci si accorge che una volta è un cornicione una volta l'altro oltre al fatto che poi la situazione viene risolta da un gesto eroico di Maria che ovviamente si era attaccata a dei cavi ma doveva comunque saltare su un vero cornicione correre su un vero cornicione e buttarsi di culo per terra con un salto di un metro e mezzo due infatti mi ricordo il primo Chuck lei ha preso sto fagotto con la bambina è andata per terra e ha schiacciato la bambina ha fatto no Maria no non così ho capito che ti devi proteggere ma dovevo trovare questo Chuck bellissimo dove schiacciava la bambina però e quindi e lei al sesto Chuck si è fatta male a una caviglia malamente allora lei è venuta da me mi ha fatto Ivan ma la scena ce l'abbiamo? io riguardavo il Chuck lo riguardavo no Maria non ce l'abbiamo non è ancora venuta come doveva essere e lei vabbè e ne ha fatti altri tre Chuck saltando con la caviglia dolorante su quel corricione correndo ributtandosi di culo finalmente non schiacciando la bambina sotto la mano ma il peggio è stato quando poco prima quella bambina cioè ovviamente quella bambina a volte era una bambina a volte era un bambolotto un bambolotto costosissimo che noi affittavamo ma il cui valore era circa 2500 euro e c'è stato un momento che se ricordate in cui Viola sale sui tralicci per salire sul tetto sale 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 con sto bambolotto in mano arriva in cima e poi le cade sto bambolotto dal quinto piano e fa pom 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 e l'operatore sadicamente ha seguito il bambolotto quindi io stavo al monitor e vedevo proprio pom pom e pensavo ok 500 euro 1000 euro ogni botta pensavo e alla fine è andata così un applauso enorme veramente lavoro immenso degli attori ma lavoro immensissimo del regista meraviglioso ultima domanda ragazzi allora innanzitutto siete meravigliosi quindi grazie per tutte le emozioni poi seconda cosa questa è principalmente per Giacomo e Ivan allora io guardando Mare Fuori mi sono particolarmente affezionata al personaggio di Ciro secondo voi perché cioè cosa ha causato questa cosa perché il personaggio di Ciro che dovrebbe essere il cattivo della situazione è comunque riuscito a sembrare vicino ai fan e al pubblico perché è bello perché è bello è questa la risposta è bello e bravo grazie grazie ma quello anche tu ricca però penso questo che tra l'altro si può collegare anche alla domanda di prima delle persone che ti imitano io penso che in qualche modo il male interpretare un cattivo è più affascinante che interpretare un buono ma anche per un attore interpretare un buono è una rottura di coglioni scusate la parola nel senso che si stai in lati accadono le cose fare un cattivo per me fare Ciro è stato come fare Joker capito era una cosa quindi questo fascino che subisce l'attore secondo me lo subisce anche il pubblico quindi questa è la prima cosa la seconda cosa penso perché un po' tutta la serie il mio personaggio compreso non si è occupata di raccontare il male fine a se stesso ma anzi dice che il male fine a se stesso non esiste esiste forse il bene esistono degli atteggiamenti sbagliati motivati da altre cose e c'è sempre una speranza un mare fuori eccetera eccetera e quindi pensare a Ciro non come il cattivo ma come il più prigioniero e dunque cattivo ma di base molto buono tant'è che poi muore e dice non voglio morire perché è un ragazzo in realtà è un ragazzo indifeso fragile piccolo diventa piccolo ha bisogno di suo padre un padre che non ha mai avuto e in quel momento lì viene fuori la verità quindi per questo poi entri in empatia diverso da che ne so interpretare uno psicopatico serial killer che tu non empatizzi tu lo odi un serial killer e collegandomi alla domanda di prima quindi non credo che il il cinema anzi assolutamente il cinema debba essere scevro da qualunque tipo di rapporto nel sociale non si può pensare al cinema come qualcosa di educativo il cinema è una messa in scena se vogliamo un'opera d'arte detto ciò e allora se no scusate il padrino non si doveva fare Scarface non si doveva fare cioè che vuol dire sono tutti grandi film che hanno fatto la storia del cinema grandi cattivi danno il buon esempio educano non educano non è non è compito nostro certo l'importante è che tu attore non inciti l'imitazione questo sì ma anzi spieghi cioè per esempio io con Ciro ci ho tenuto a dire ecco chi fa la vita di Ciro fa quella fine lì cioè muore e quello è l'esempio poi se uno lo emula o non lo emula non è arte nostra così come è stato per tutti i film della storia il grande cinema questo fa quello che ci ricordano popola se no saremmo tutti Don Matteo cioè ci sono dei film che hanno un successo pazzesco ma non mi sembra che poi anche in positivo anche i bravi ragazzi di Scorsese non fanno una bella vita è quello però voglio aggiungere un'ultima cosa perché qualche giorno fa sedevo accanto a Cento Mani che è il direttore degli istituti minorili in Campania o addirittura forse sì e lui ha parlato di Marefuori definendolo ha detto io ho visto Marefuori e ho trovato che Marefuori sia importante perché è una specie di bignami dell'educazione emotiva cosa che spesso ai ragazzi che finiscono in posti come Nisida è ciò che più è mancato cioè spesso sono persone che non hanno dei riferimenti emotivi forti hanno delle figure paterne se ne hanno molto discutibili e non sono abituati all'affetto di un certo tipo a manifestare e invece in qualche modo Marefuori col fatto che i personaggi e io ci tengo a questo e lo spingo sempre in questa direzione sono personaggi che in qualche modo si trovano ad affrontare le loro emozioni a viverle fino in fondo non è un caso che Marefuori stanno sempre spesso si piange i personaggi piangono non hanno paura di piangere gli uni davanti agli altri fanno i conti con le loro emozioni che è una cosa che spesso magari certi ragazzi e ragazze non imparano a fare allora lui diceva che ringraziava Marefuori di essere appunto un bignami dell'educazione emotiva e io penso che in questo senso Marefuori coniughi intrattenimento ma anche una certa forma di un aspetto sociale importante una missione che è quella che io cerco di continuare con questa serie senza voler fare appunto l'opera pedagogica che ti fai due palle e che rifiuteresti la gente rifiuterebbe un'opera pedagogica se Marefuori volesse essere così Marefuori fa vedere che non tutti si salvano anzi quasi nessuna storia finisce bene quasi nessuna storia finisce come vorremmo però noi ci rispecchiamo nella sofferenza nell'emotività del processo di quello che affrontano questi personaggi ed è questo poi alla fine penso il suo punto di forza quello che dici è molto vero e io devo dirti Ivan che tu hai diretto a parte questa serie hai diretto film con i draghi film con donne che combattono contro macchine indistruttibili hai diretto film con una coppia di fidanzati in una in una macchina in una notte film su gente che rivela la sua identità però io quello che vedo che al di là dei geniti da cui spazi tu comunque non perdi mai di vista proprio questo aspetto questo delle emotività dei personaggi che è sempre centrale e secondo me tu sei un grande narratore di emozioni come sono anche Giacomo come Raiz e lo hanno portato sullo schermo interpretando i loro personaggi ora questo incontro io lo farai durare tantissimo ma siamo già andati stra fuori orario siamo tutti impegnati come vi abbiamo detto i prossimi progetti ce lo dicono in 26 secondi no va bene seguiteli sui social su google li trovate perché io sono molto interessato ma niente li scopriremo ormai l'ha fatto scusate io chiedo scusa al prossimo talk siamo in un ritardo atroce velocemente i prossimi progetti allora i prossimi progetti vabbè Mare fuori 4 e 2 serie nuove che si chiamano Noi siamo leggenda e il caso Claps grazie io come sapete faccio anche il cantante sono uscito con un disco sulla mitica figura di Sergio Bruni che è proprio mitologia e là proprio mi sono divertito a fare l'attore ancora una volta mentre faccio il musicista perché mi sono proprio permesso Sergio Bruni è un cantante per chi non lo conosce sarà raro che voi possiate conoscere che qualcuno di voi possa conoscere Sergio Bruni perché siete troppo giovani è un fantastico cantante di classico napoletano tutta questa esperienza siccome devo scrivere ancora per la serie Mare fuori magari questa esperienza così melodica di Sergio Bruni in qualche modo si trasfonderà anche nelle prossime canzioni della della colonna sonora io sto al gabbio come sapete quindi molto bene allora ragazzi vi chiedo di rimanere un attimo fermi fate un gigantesco applauso a Ivan Silvestrini Raiz e Giacomo Giorgio e Giacomo Giorgio